Dopo dieci anni di servizio dell'Agropoli Cilento Servizi, è tempo di bilanci. Duro l'attacco del consigliere di minoranza del comune di Agropoli, consolato Natalino Caccamo, nei confronti della società In House, che si occupa di diversi servizi, quali manutenzione, servizi portuali, servizi sosta a pagamento, anagrafe, protezione civile, edilizia, urbanistica, attività culturali, bilancio e tributi. Nacque con il buon intento di stabilizzazione di lavoratori precari e abbattere e superare il sistema delle cooperative per dare un futuro più garantito a quei lavoratori che ogni giorno si mettevano a disposizione per la comunità, spiega Caccamo. Ma dopo dieci anni il bilancio è magro. Lavoratori tenuti molte volte part-time, mal equipaggiati e a cui ultimamente volevano cambiare in peggio gli estremi contrattuali, sottolinea il consigliere, invece di ampliare l'organico della società comunale con i concorsi pubblici, si è preferito continuare a dare incarichi fiduciari agli amici di Comodo, spesso e volentieri impiegando non chi ne avesse realmente bisogno, ma piuttosto pregiudicati e tossicodipendenti per tenerseli buoni. Di circa 2 milioni di euro delle nostre tasse di dotazione annuale, più della metà è andato nella fornitura di personale da parte di un'agenzia interinale che, si legge dagli atti, ha casualmente assunto parenti, amici e altre brave persone che però, se tenute fuori, avrebbero parlato troppo. Insomma, da nobile intento a una macchina di consenso elettorale poderosa, ha spiegato Caccamo. Chiederemo tutti gli impegni di spesa, le modalità di scelta dei fornitori, l'elenco completo dei nominativi invitati a partecipare ai festeggiamenti per il decimo anno di attività. Di opinione opposta il presidente della società, Mimmo Gorga, che ha così ribattuto alle accuse del consigliere Natalino Consolato Caccamo, stupisce ed un po' rattrista dover constatare che ad un invito a cena per festeggiare il decennale di attività dell'azienda speciale di Agropoli si risponda con attacchi puerili e volgari. Non altrimenti potrebbero essere considerati riferimenti, peraltro gravissimi, a presunte debolezze di dipendenti e collaboratori, ha spiegato Gorga. È davvero triste dover leggere queste misere espressioni che sono mischiate ad un guazzabuglio di considerazioni senza fondamento né logica, ha sottolineato il presidente, ricordando la straordinaria vita dell'agropoli Cilento Servizi, che da piccola società in house, quale era nel 2008, oggi è divenuta una realtà tra le più importanti della provincia di Salerno, sia in termini di budget gestito che di lavoratori occupati.